Oggi, 21 novembre 2020, il grande Rex Zanardi sarebbe stato trasferito dall'ospedale San Raffaele di Milano all'ospedale di Padova. Le condizioni di salute del grande atleta sono stabili, di come si legge su web. Il bollettino medico in particolare avrebbe descritto. Ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità, che ha consentito il trasferimento ad un'altra struttura ospedaliera. Il trasferimento ha una doppia motivazione. L'ospedale di Padova, infatti, ha dotato di tutte le specialità cliniche importanti se perseguire Zanardi al meglio e se trova più vicino al domicilio della famiglia. La sua famiglia è infatti via a pochi chilometri da Padova, nella riga del Brenta. Era ricoverato dal San Raffaele del 24 luglio scorso, ormai sono passati molti mesi, in condizioni di, dapprima, grave instabilità neurologica sistemica. Zanardi ha affrontato un periodo di rianimazione intensiva e poi un percorso di tipo chirurgico. Il video termina qua, questo sarebbe quanto. Vi ringrazio che lo ascolto, iscrivetevi al canale e commentate. Questo video non vuole ridere la prese di Alex, ma solituramente informare eventuali persone. Nel piano rispetto alla sua pressione e alla sua prese.